buongiorno ecco vi voglio far vedere quanto attrazzatura ci vuole per poter cacciare i colombaci nel campo questo video è rivolto a tutti quelli che ieri cacciavano nel venezia 4 in un modo improprio inadeguato a branche di colombaci ai quali sparavate ad un'altezza di 150 metri come minimo vergognosamente scarichi di 6 7 8 fucilate perché magari in due nei capanni o anche in tre è vergognoso quello che sapete fare a caccia voi che cacciate i colombaci in un modo inadeguato in quel del venezia 4 ripeto attici venezia 4 questi sono le scatole e tutta l'attrazzatura che serve per poter cacciare i colombaci adeguatamente spararli nel tiro a 30 40 metri massimo stampi di colombaci dalle aperte per le giostre ben raccolti la sera quando si va a casa in una busta di nylon in un apposita scatole stampa in plastica tipo conchiglia o piena 50 45 stampi di penna queste sono le batterie delle giostre una due tre e la quarta nel sacchetto questo è il tubo contenente le stecche da quattro metri e mezzo ognuna col quale mettere i colombaci dalle aperte per attirare i colombaci questa è tutta l'attrazzatura del vivo dei richiami vive le mangiatoie le ribaltine di un tipo prodotte da me e di un altro tipo prodotte da me questi sono gli stantuffi poi ci sono i cappani e paratie varie queste quanto imparate ad andare a caccia al colombaci se no statevene a casa vostra perché tirare colombaci all'altezza di 150 metri per spaventare branchi da mille più colombaci e solo da deficienti per essere efficienti ecco questo è quanto quando si caccia nel campo se no ve ne andate a sparare ai colombaci su un colle in montagna e non rovinate la caccia a chi la fa adeguatamente come già mi è stato detto dai residenti nel Venezia 4 che piangono per quello che fate piangono tutti voi quelli che ieri sparavano fuori tiro e lo sapete bene chi siete uccidere un colombaci fuori tiro è una cosa assurda tanto più che sicuramente sparavate con del 3 o del 2 o dallo 0 a scariche e quanti ne avete feriti siete molto bravi molto io dico che vi dovete vergognare buongiorno a tutti